... Buonasera, benvenuti all'appuntamento con l'informazione del TG6. Sarà un Natale meno duro da affrontare per i dipendenti del Cotir di Vasto. L'ente si appresta a pagare 12 mensilità rispetto alle 24 arretrate e ancora nubi però sul futuro dell'ente in liquidazione. Il servizio di Alfredo Primante. Noi siamo qui per protestare per gli stipendi che non percepiamo oramai da 24 mesi e siamo qui per capire quale sarà il nostro futuro. Un futuro ancora troppo nebuloso, ancora troppo incerto. I lavoratori del Cotir di Vasto, dopo essere saliti sul tetto della loro sede, sono tornati a protestare, questa volta nella sede della regione Abruzzo in Viale Bovio a Pescara. I ricercatori del centro che si occupa di innovazione in agricoltura chiedono certezze all'assessore all'agricoltura Dino Pepe e al presidente della regione Luciano D'Alfonso circa il futuro del Cotir, oggi in liquidazione. Intanto dall'assessore Dino Pepe è arrivata la rassicurazione del pagamento di 12 mensilità. Ieri abbiamo eseguito il primo bonifico di 150 mila euro e oggi seguiranno altri 320 mila euro a favore del Cotir. 12 mensilità saranno saldate da qui alle prossime ore. Ma io voglio ringraziare l'impegno dei dipendenti del Cotir, la loro dedizione, la loro professionalità e soprattutto la loro dignità. In questi mesi hanno continuato a lavorare, a portare avanti i progetti di ricerca, soprattutto per definire quelli relativi alla misura 124 del programma di sviluppo rurale 2007-2013. Progetti importanti che ci consentiranno di evitare il disimpegno, cioè la restituzione dei fondi a Bruxelles. Sul futuro del Cotir e degli altri tre enti di ricerca regionali, oggi in mano ai commissari liquidatori, si è espresso D'Alfonso, che ha voluto incontrare i ricercatori. Faremo un unico ente regionale della ricerca che sia sostenibile finanziariamente perché in futuro non sarà più possibile ripianare i debiti, ha detto il governatore, che ha anche annunciato un esposto alla Corte dei Conti e alla Procura di Vasto per far luce sui debiti accumulati negli anni dal Cotir. I lavoratori sperano che la legge di riordino dei centri di ricerca veda presto la luce. Siamo assolutamente favorevoli a razionalizzare anche le nostre attività di ricerca perché noi facciamo ricerca applicata e sperimentazione in agricoltura e un ente unico potrebbe avere anche forza maggiore per essere presenti sul territorio, per avere delle ricadute maggiori. In fondo siamo piccoli, noi siamo 27 dipendenti e il Crab di Avezzano ne sono circa 25, quindi un totale di 50 persone che si occupano di un aspetto importantissimo per la regione Abruzzo. Ora parliamo di sanità, l'Abruzzo sarà definitivamente fuori dal commissariamento da metà gennaio ad annunciarlo l'assessore regionale Silvio Paolucci, il servizio di Andrea Costantini. A metà gennaio l'Abruzzo uscirà definitivamente dal commissariamento per la sanità. Lo ha annunciato l'assessore regionale Silvio Paolucci a seguito del tavolo di monitoraggio presso il Ministero che ha dato l'ok all'organizzazione della rete come fissata dal piano. 13 tra pronto soccorso e ospedali manterranno questo rango classificandosi 7 di primo livello, Avezzano, Lanciano e Vasto, assieme a quelli dei 4 capoluoghi di provincia con funzioni di secondo livello integrate tra loro. 4 ospedali di base, Assulmona, Santomero, Atri e Giulianova e infine 2 di zone disagiate, Penne e Castel di Sangro. La questione è piuttosto delineata anche sul fronte dei 4 punti nascita nonostante la richiesta di rivalutazione formalmente presentata dal Presidente della Regione, Luciano D'Alfonso, alla Commissione per Corso Nascita Nazionale. Un ulteriore tentativo per sventare la chiusura dei 4 centri ma l'assessore Paolucci ha osservato come l'unico punto sul quale è possibile ottenere una deroga sarà quello di Sulmona, sfruttando i punti del decreto per la montagna. Per Penne, Ortona e Atri i pareri dei tecnici, secondo Paolucci, sono molto difficilmente ribaltabili. Mancano dunque solo alcuni passaggi tecnici, tra questi uno dei principali è il trasferimento di 237 milioni di euro dalle casse della Regione alle ASL che sarà possibile non appena verrà approvata la legge di stabilità. Dopodiché la Regione sarà fuori dal commissariamento, solo dopo e quindi in primavera sarà affrontato il discorso della ASL unica. E sulla sanità è intervenuta anche SEL, Sinistra Ecologia Libertà che in un documento ha presentato le priorità per il nuovo piano sanitario regionale. Vediamo. Efficienza, soprattutto efficacia. Il nuovo piano sanitario non deve precludere da questi obiettivi. Voi avete presentato un documento con tanti punti che riguardano il nuovo piano sanitario regionale. Con questo documento ci poniamo nella discussione cercando di dare un nostro fattivo contributo a che il piano abbia una direzione importante, ovvero quella direzione che non tenda a interpretare i necessari tagli che il governo centrale ci impone o comunque la sostenibilità del servizio ci impone a farli coincidere con tagli anche ai servizi. Riteniamo che invece attraverso degli opportuni accorgimenti e attraverso l'adozione di importanti innovazioni si possa invece raggiungere l'efficacia del servizio, l'efficienza dello stesso. Avete parlato anche dell'importanza dei rapporti con il privato e anche con le università. Le università vanno considerate per il ruolo che hanno che non è un ruolo secondario perché oggi loro occupano uno spazio importante nella rete ospedaliere regionale. Per quanto riguarda il rapporto con le cliniche private, per noi è necessario che tutta la governance resti in mano pubblica. È il pubblico che decide quali e quante prestazioni devono passare al privato. Ora andiamo all'Aquila perché la Corte dei Conti sta indagando su presunti affitti gonfiati dell'Ateneo nel dopo sisma per ricollocare alcune facoltà e si indaga sull'ex rettore di Orio e sul responsabile amministrativo del Vecchio. Il servizio di Daniele Rosone. La Corte dei Conti indaga sulla vicenda dei presunti affitti gonfiati dell'università. L'ex rettore dell'Università dell'Aquila Ferdinando di Orio infatti è l'ex direttore generale Filippo del Vecchio. Sono sotto indagine da parte della Procura della Corte dei Conti sulla vicenda dei presunti affitti gonfiati stipulati dall'Ateneo Aquilano dopo il terremoto del 2009 per ricollocare alcune facoltà. Si tratta del filone contabile parallelo al processo penale per il quale devono rispondere di abuso d'ufficio aggravato che si sta svolgendo al Tribunale dell'Aquila e che vede alla sbarra i due ex vertice, l'imprenditore Marcello Gallucci, che ha fittato lo stabile dell'ex optimus. Di Orio e Del Vecchio sono stati ascoltati nei giorni scorsi dai magistrati contabili ai quali hanno consegnato due memorie. Nei prossimi mesi la Corte dei Conti dovrà decidere se citare a giudizio i due oppure archiviare. Si è dovuto agire in fretta per le incombenze poste al remoto e ricollocare in fretta le facoltà, spiega il difensore di Del Vecchio. L'avvocato Stefano Rossi si è dovuto ricercare un immobile. Secondo la commissione costituita da tecnici e amministrativi dell'Ateneo, l'immobile scelto era idoneo ad essere messo in funzione per i corsi di ingegneria nel mese di ottobre. C'erano anche altre proposte, ma sarebbero state pronte molto più tardi, una dopo due anni, e inoltre gli spazi non erano idonei. L'avvocato rivela che secondo quanto si è appreso la Corte dei Conti ha accettato il problema dei canoni. Resta da chiarire se è stato congruo l'onere sostenuto dall'università rispetto ai lavori di adeguamento. In tal senso, Del Vecchio ha chiarito ai magistrati, spiega ancora Rossi, di aver interrotto i pagamenti una volta toccata la somma che l'ufficio tecnico ha ritenuto congrua per le esigenze dell'università. Ora andiamo a Pescara per la cronaca. Beni mobili ed immobili per un valore di 500 mila euro sono stati sequestrati su disposizione del Tribunale di Pescara dalla Polizia e dalla Guardia di Finanza del Capoluogo Adriatico. I beni sono riconducibili a Paolo De Luca, 45 anni, già personaggio di spicco della nota nuova banda Battestini. Il 45enne a maggio del 2013 finì in carcere dopo la condanna in via definitiva da parte della Cassazione per una serie di rapine a banca e portavalori messe a segno tra il 2000 e il 2006 dalla banda di cui faceva parte. De Luca era considerata capo dell'organizzazione al pari di Massimo Ballone, ex componente della banda. In particolare sotto sequestro nella zona di Fontanelle del Capoluogo Adriatico sono finite quattro unità immobiliari, due appartamenti e relative pertinenze, un'autovettura e un furgone per un valore complessivo di circa 500 mila euro. Il porto canale bloccato e ponte del mare chiuso a Pescara per l'esercitazione di protezione civile antiterrorismo che si è svolta nel corso della mattinata, bloccate per alcune ore le attività commerciali all'interno della banchina sud dello scalo Adriatico. In azione polizia municipale, polizia dello Stato, vigili del fuoco e croce rossa. All'esercitazione hanno partecipato anche cani anti-esplosivi della polizia, tanti curiosi che si sono radunati nelle due banchine del porto di Pescara per osservare le operazioni congiunte delle forze dell'ordine. Andiamo a Teramo, la mozione di sfiducia al presidente del Consiglio Comunale di Teramo, Milton Di Sabatino, presentata dalla consigliera dell'opposizione del gruppo misto Paola Cardelli, non passa. Ieri pomeriggio si è svolta la seduta del Consiglio Comunale, tra i punti all'ordine del giorno la votazione bocciata della maggioranza. Elisa Leuzzo. Con 19 voti contrari e 12 favorevoli, la sfiducia al presidente del Consiglio Comunale di Teramo non passa. L'amoranza, dopo aver fatto un'ennesima brutta figura, l'ennesima brutta di tutta, abbagona anche l'aula. Prendo pure conto che siccome lo schiaffo che ha preso e che viene in grado è stato sonoro. Una nomina, quella del presidente del Consiglio, che nel giugno scorso è stata faticosa, Milton Di Sabatino infatti è stato eletto dopo ben 5 votazioni. Negli ultimi giorni il dibattito tra i consiglieri di opposizione si è fatto sempre più acceso fino alla presentazione della mozione di sfiducia. Il presidente Di Sabatino ha avuto un comportamento diverso rispetto ai membri dell'opposizione perché con qualcuno si è comportato in maniera scorretta dal punto di vista delle regole istituzionali, con qualcun altro invece è stato particolarmente solidale e sodale. Al di là della votazione della sfiducia che il sindaco ha trovato come strada e come soluzione quella di promettere nuovamente l'azzeramento dell'aggiunta e del rimpasto, così come ha fatto in passato, per costringere i suoi consiglieri a votare questa sfiducia, in realtà gli effetti si sono già prodotti. C'è stato uno sconquasto nella maggioranza, di fatto c'è uno schema politico che è completamente diverso rispetto a quello che è uscito dalle elezioni e da domani in poi vedremo quali sono gli effetti. La mozione, presentata da Paola Cardelli, consigliere comunale del gruppo Misto, è stata bocciata dalla maggioranza compatta e dal consigliere di opposizione Gianluca Pomante con queste motivazioni. All'opposizione dell'opposizione e all'opposizione della maggioranza, quindi sostanzialmente sono rimasto da solo. Non condivido assolutamente dal punto di vista personale un attacco del genere ad una persona come Milton Di Sabatino, indipendentemente dagli errori che possa aver fatto durante la conduzione del Consiglio. I consiglieri Marroni, Cardelli e Berardini cavalcano questo astio personale che hanno per gli scontri avuti con il Presidente. Il PD cavalca la Tigre per cercare di portare scompiglio nella maggioranza. Nella maggioranza c'è stato chi ne ha approfittato per cercare di mischiare le carte con il fine, obiettivamente meschino, di arrivare ad una poltrona, probabilmente proprio alla poltrona del Presidente del Consiglio. Io a questi giochi non ci sto. Se fosse stata scritta, argomentata in maniera diversa, probabilmente avrei votato anche a favore, ricorrendo nei presupposti giuridici e formali. In questo caso io ritengo che sia proprio un atto irricevibile sotto ogni punto di vista. Torniamo a parlare del metanodotto esploso a Mutignano di Pineto nel marzo scorso, e che è stato oggetto di una recente conferenza di servizi con gli enti interessati. Il permesso provvisorio per la riattivelazione di un collegamento volto a ripristinare la continuità del metanodotto Ravenna Chieti è arrivato dopo il dissequestro della zona e l'autorizzazione da parte del magistrato della Procura di Teramo che sta indagando sulle cause dello scoppio con i lavori che saranno effettuati sotto la supervisione di carabinieri e tecnici dell'autorità giudiziaria. Il forum dell'acqua abruzzese torna a puntare l'attenzione sul porto di Pescara. In particolare non convince la decisione del provveditorato delle opere pubbliche di aggiudicare l'appalto della soffolta prima della decisione della commissione via il servizio. Dopo l'annuncio di ieri da parte del viceministro alle infrastrutture Nencini dell'arrivo di fondi per il porto di Pescara, il forum abruzzese dell'acqua torna a richiamare l'attenzione sul progetto previsto dal piano regolatore portuale in via di approvazione e soprattutto sulla gara per la costruzione della barriera soffolta. Il movimento ambientalista pone l'attenzione sul fatto che il provveditorato alle opere pubbliche dell'Abruzzo ha giudicato l'appalto per la realizzazione della cosiddetta barriera soffolta senza aver ottenuto prima il consenso della commissione per la valutazione di impatto ambientale. È un aspetto incredibile, la valutazione di impatto ambientale si fa prima, non dopo. È andata a gara un elaborato progettuale, quindi il comitato via che dovrà giudicare anche le osservazioni che vengono dal pubblico, dai pescatori, dagli ingegneri e chi vuole partecipare al procedimento, questa commissione dovrà anche mettere delle prescrizioni. Lo farà con una gara già appaltata, con degli elaborati già affidati a una ditta che ha quindi dei diritti, quindi con una questione economica è circa un milione di euro l'appalto. Quindi noi crediamo che si voglia portare tutti davanti al fatto compiuto di realizzare delle opere che sono previste nel nuovo piano regolatore portuale che però ancora non è approvato, che è molto contestato per esempio dalla categoria dei pescatori ma non solo, è un piano faraonico e qui non è che si tratta di sofismi, si tratta di, in un'opera portuale, anche 10 metri di differenza nel posizionamento delle opere di un molo per esempio può causare problemi con le correnti, quindi va valutato attentamente, non con questa fretta che di solito è cattiva consigliera. L'ennesima colata di cemento sul lungomare di Pescara è passata in Consiglio Comunale una proposta del Movimento 5 Stelle per cercare di bloccare il progetto di Pescara Porto lungo la Riviera Sud. Vediamo. Il Consiglio Comunale di Pescara ha approvato una proposta del Movimento 5 Stelle che invita il sindaco e il dirigente dell'edilizia a valutare la possibilità di revocare il permesso a costruire rilasciato nel 2012 alla Pescara Porto SRL per il progetto da realizzare accanto all'area ex-cofa della regione Abruzzo. Secondo i 5 Stelle, in quelle aree su cui dovrebbero essere realizzate tre palazzine di sette piani, c'è un vincolo della regione che le classifica ad elevato rischio di esondazione. La Pescara Porto si può fermare. Abbiamo chiesto infatti al sindaco di emettere un'ordinanza per la pubblica incolumità in quanto la regione ha inserito l'area su cui la Pescara Porto dovrà costruire questi tre famosi palazzi. È un'area a rischio di esondazione molto elevata. Quindi per proteggere la pubblica incolumità chiediamo al sindaco di fermare quest'opera che potrebbe essere molto pericolosa evidentemente. Voi avete fatto una richiesta precisa all'amministrazione comunale. Quale? Sì, noi abbiamo chiesto appunto al sindaco di emettere questa ordinanza per la pubblica incolumità e abbiamo chiesto inoltre di confrontarsi con il dirigente dell'edilizia per verificare se per sopravvenute circostanze appunto al contorno, nel contesto, non si possa proprio revocare del tutto il permesso di costruire. 4,8 milioni di euro per dotare la regione Abruzzo del sistema integrato di mobilità sostenibile. A guidare il progetto sarà tua. Vediamo. Con la firma questa mattina si avvia il percorso che porterà la regione Abruzzo a dotarsi di un sistema integrato di mobilità sostenibile, cioè un bike sharing diffuso su tutto il territorio, che coinvolgerà TUA, la società unica del trasporto regionale, come stazione appaltante e guida del progetto assieme a 77 comuni. Posso dire come presidente di TUA che la scelta di individuare in TUA la stazione appaltante consentirà di potenziare ancora di più l'operatività di TUA, in qualche modo di rilanciarne anche le capacità progettuali. Stiamo progettando la realizzazione di ben 170 ciclostazioni, una quantità di biciclette sia muscolari sia pedalate assistite straordinariamente importante e un nuovo modo di poter fruire non solo della bellezza della regione ma anche di immaginare delle modalità di spostamento. Quali sono i due punti di forza che rivendichiamo a questa modalità di procedere? La scelta di campo della mobilità alternativa e poi naturalmente l'intuizione di affidare a TUA che è il soggetto della mobilità, della vita in esercizio di questa speciale infrastrutturazione. Nel protocollo d'intesa illustrato questa mattina si ufficializza anche la nascita di due gruppi di lavoro costituiti dagli Atenei regionali Pescara Chieti, Teramo e L'Aquila. Uno per i contratti di fiume, strumento che dovrebbe rendere più celere e coordinato il risaramento delle aste fluviali, l'altro per l'aggiornamento e l'elaborazione del nuovo piano paesaggistico regionale. Sono iniziati già i primi lavori all'alberghiero De Cecco di Pescara. Questa mattina i vertici della provincia e dell'istituto hanno illustrato agli studenti il crono programma degli interventi che riguarderanno la sede di Via dei Sabini e quella di Via Tirino. Il servizio di Paolo Renzetti. Paolo Dincecco, dirigente dell'area tecnica della provincia di Pescara. Questa mattina una giornata importante qui all'alberghiero De Cecco perché avete annunciato una serie di lavori, alcuni già partiti, altri che partiranno a breve e che riguardano proprio l'alberghiero di Pescara. Vogliamo in sintesi parlare di quelli che sono gli interventi più importanti? Sì, sull'istituto alberghiero siamo impegnati con diversi cantieri in questo momento. Siamo operando sui laboratori cucine di Via Tirino d'urgenza con un importo di circa 80 mila euro che ci permetterà di riaprire subito dopo le festività natalizie. Siamo impegnati sulla ex palestra qui dell'istituto con l'importo maggiore che sono 2 milioni 840 mila euro con i quali stiamo creando i nuovi laboratori, le nuove cucine e le nuove aree accessorie. Inoltre siamo impegnati per la ristrutturazione dell'ex collegio eterno, meglio noto come palazzina A, come edificio A. A regime quindi l'architettura di questo istituto scolastico sarà che tutta la popolazione risiederà qui a Via dei Sabini e nella prospicente succursale di Via Italica. Noi siamo molto contenti e molto soddisfatti di quello che ci stanno dando e ci hanno dato perché con l'inizio dei lavori a Via Tirino che era la nostra sede dei laboratori è una cosa molto positiva per noi perché per gennaio, l'11 gennaio, noi torneremo a fare laboratorio lì. Continueremo a stargli col fiato sul collo per i lavori alla palazzina A e li accogliamo a braccia aperte qualsiasi volta sono disponibili a venire da noi. ACI, Comune di Pescara e Polizia Municipale hanno presentato i risultati di un progetto sulla sicurezza stradale riservato ai ragazzi delle scuole. Vediamo. Presidente Sartorelli parliamo di guida sicura, di sicurezza stradale un importante progetto dell'Automobile Club di Pescara con i ragazzi delle scuole. Chi ci ha proposto questo evento ci ha coinvolto in un qualcosa di nuovo che secondo me non è mai avvenuto in Italia cioè fare oltre alla semplice lezione nella classe con gli studenti che poi perdono di attenzione dopo pochi minuti li abbiamo voluti portare nel loro ambiente in quello che loro frequentano il sabato sera, il venerdì sera nella loro discoteca quindi hanno avuto mezz'ora di ballo, fumo, cubisti, c'è stato di tutto poi un quarto d'ora e venti minuti con Cristiano Militello che è una persona molto sensibile a queste vicende poi a un certo punto si è fermato tutto finita la musica, spente le luci sono partiti dei filmati che abbiamo dovuto proiettare anche per introdurre poi il successivo evento e da quel momento le immagini erano un po' dure ma la cosa che poi ci ha entusiasmato e che ci rende oggi ottimisti è che le persone che intervengono sugli incidenti quindi i vigili del fuoco, polizia municipale, 118, carabinieri hanno raccontato la loro esperienza e quindi non erano attori erano loro che raccontavano quello che vedevano nel momento in cui si interviene in un incidente le scuole che hanno partecipato i ragazzi che hanno partecipato alcuni sono usciti anche con le lacrime certo noi non volevamo questo però volevamo che venisse recepito il messaggio bisogna guidare con la testa Gli studenti della scuola primaria Noel Lucidi di Teramo sono risultati vincitori della sezione amicizia del concorso scrittori di classe 2 partendo dagli incipit di alcuni scrittori i ragazzi hanno steso, guidati e coordinati dagli insegnanti un racconto di 10.000 battute realizzato tra illustrazioni vediamole Il concorso della Conad ha visto coinvolti 13.000 racconti 4.000 classi partecipanti l'autore poi ha scelto tra questi otto finalisti il nostro racconto e quindi oggi abbiamo potuto godere della sua presenza e del laboratorio poi di scrittura creativa con i bambini Io ho scritto un incipit l'incipit è stato sviluppato da un certo numero di classi in giro per l'Italia e di tutte le storie che sono state prodotte me ne sono arrivate 10 delle 10 che mi sono arrivate ho scelto quella dei ragazzi qui di Teramo perché si prestava per essere sviluppata in un romanzo di un centinaio di pagine e all'interno ci sono 7 quadri e i loro 7 quadri sono molto interessanti il tema della storia è l'amicizia e si articolerà in una serie di sottostorie che appunto sono vissute dai due protagonisti Marco e Iuliane all'interno dei quadri che i ragazzi hanno scelto per cui è una storia fatta più umani nel senso che ci sarà il mio intervento ma ci sarà anche quello dei ragazzi la nostra Quarta C quindi ha avuto l'occasione di fare questa esperienza che comunque per noi si lega ad una tradizione già di incontri con gli autori di attività promosse nella lettura e per la scrittura che ci conforta anche di questo ulteriore risultato Sabato e domenica Castelli si trasforma in un dolce paese in fiaba musica, poesia, arte e gastronomia accoglieranno i visitatori del borgo incastonato nel parco del Gran Sasso Monti della Laga, il servizio Torna a Castelli la terza edizione dell'evento denominato Un dolce paese di fiaba musica, arte, ceramiche, botteghe aperte e dolci tipici preparati dalle maestre pasticcere e castellane per far vivere una magica atmosfera ad altri tempi All'interno della Kermes Castelli Natale c'è il dolce paese di fiaba una manifestazione che praticamente rende un borgo che di per sé è suggestivo ma quello di Castelli magico, fiabesco quindi in questi due giorni c'è la possibilità di gustare dolci tipici castellani all'interno di una situazione molto fiabesca con delle ragazze che praticamente si maschereranno da Cenerentola, Biancaneve e faranno delle attività per i ragazzi per i bambini principalmente Potranno essere visitate inoltre le botteghe artigiane dei maestri ceramisti locali che da oltre 400 anni realizzano pregiati oggetti in maiolica per una mostra permanente Stiamo a proporre i sedociti tipici di Castelli dove poi verranno alternati dal Babbo Natale con cui darà dei doni ai ragazzi e ai bambini che verranno con le famiglie proporremo lo show cooking quindi faremo un dibattito sul cui mangiare bene ai mediterranei o in più ci sarà una breve un breve show di dolci tipici e di qualcosa di salato che noi proponiamo come le icris pellette in più poi ci saranno diversi artigiani del posto e anche dei comuni limitrofi che verranno a proporre le loro produzioni molto variegate Apriamo la pagina dello sport è vigilia del derby domani ci sarà l'incontro tra Virtus, Lanciano e Pescara la partita sarà diretta da Aureliano della sezione di Bologna tra i biancazzurri recuperati i difensori Campagnaro e Fornasier proprio il giocatore argentino potrebbe essere l'unica novità rispetto all'undici che ha superato Lentella sabato scorso non convocato invece Verre dopo lo scontro di gioco in allenamento con Bruno di mercoledì e allora ascoltiamo le dichiarazioni del tecnico Massimo Oddo Ma io credo che sarà una partita credo che uno degli errori che possiamo fare è quella di aspettarci un tipo di squadra o un tipo di mentalità o un tipo di anche se vogliamo modulo perché comunque anche il Lanciano a volte cambia non molto ma cambia però anche piccoli cambiamenti possono fare la differenza e quindi potrebbe essere un errore perché a mio modo di vedere questa è una partita che soprattutto soprattutto per il Lanciano è una partita molto particolare perché comunque è la seconda squadra abruzzese quindi ci tiene particolarmente oltre al fatto di tenerci molto bisogna tenere ben presente il fatto che in questo momento il Lanciano ha bisogno di punti a tutti i costi e quindi sono classiche partite dove una squadra quantomeno a livello dell'agonismo e mentale si può trasformare e quindi dobbiamo rimanere molto concentrati e dobbiamo affrontare questa partita con grande umiltà consapevoli dei nostri mezzi convinti delle nostre potenzialità ma sempre con grande equilibrio mentale è ovvio che se in un derby magari la tensione della gara e il momento particolare del Lanciano può far sì che a volte queste partite si incanano un po' più dal punto di vista del nervosismo e quindi c'è da aspettarsi magari qualche lecito contatto maggiore lecito nel senso che un po' più di agonismo però dobbiamo essere pronti anche a questo sono partite particolari che credo che al di là poi della posizione in classifica abbiano un risalto particolare un sapore particolare ma come ho detto prima soprattutto per loro perché credo che ci tengano particolarmente se vogliamo per noi è una partita molto importante è un derby sì ma insomma voglio dire non è una di quelle partite insomma non stiamo facendo il derby con i chieti per intenderci non è così caricato l'ambiente è una verità no? credo che sia una verità quindi questo è da tenere in considerazione diciamo che per loro è un derby e per noi è una partita molto importante nessuna sorpresa invece per la lista dei convocati da parte del tecnico della Virtus Lanciano fuori causa Zeduardo Vastole Ferrari oltre allo squalificato Aquilanti in difesa torneramente in mediana Bacinovic Di Cecco e Paghera in attacco certi di un posto Padovan e Piccolo si contenderanno invece una maglia di Francesco Lanini e Marilungo ora invece ascoltiamo proprio Roberto D'Averza no paura ma è il massimo rispetto per la scuola avversaria perché comunque c'è una squadra che ambisce ad andare playoff però mai avere paura dell'avversario sempre in massimo rispetto ci mancherebbe altro ma la paura penso che non possa far parte di questo sport perché comunque è una partita di calcio e va vissuta come una partita di calcio è chiaro una maniera determinata in maniera lucida però rimane pur sempre una partita di calcio l'anno scorso è chiaro che era una partita diciamo che poteva determinare il cambiamento di un obiettivo non ci siamo nascosti è chiaro che eravamo partite per salvarci e quella partita era fondamentale per far sì che ci desse quella spinta in più per cercare di raggiungere un obiettivo diverso da quello che ci avevamo prefissato all'inizio dell'anno mancavano ancora delle partite dove purtroppo poi abbiamo perso ma se avessimo vinto magari potremmo ambire a qualcos'altro mi auguro che questa partita ci possa far ripartire siamo in una posizione di classifica totalmente diversa e quindi la partita rimane importante ripeto per la classifica soprattutto cosa importante secondo me che approfittando pure che sia un derby che per un giorno lo stadio sia gremito che per un giorno si lasci perdere l'allenatore si lasci perdere la società si lasci perdere i giocatori e magari si dia quella spinta ripeto che è importantissimo per far sì che questa squadra che noi tutti usciamo da questa da questa situazione è chiaro che c'è la posizione di classifica ci sono tanti componenti che magari non ti fanno affrontare la partita in maniera serena però questo lo dobbiamo migliorare perché ripeto la dobbiamo vivere come una partita di calcio perché è una partita di calcio con la massima determinazione con la massima cattiveria limitare gli errori lì dove ripeto per sei partite non possiamo permetterci di rimanere in dieci e compromettere anche il campionato per le partite successive questo è un aspetto che noi dobbiamo migliorare non possiamo dare questi vantaggi a prescindere che poi ci possono essere stati degli episodi ripeto negativi nei nostri confronti perché quello è negabile perché spesso e volentieri si va a fare delle valutazioni è chiaro che società piccola quindi non destra nessuna preoccupazione per nessuno cioè passa tutto inosservato però non deve essere per non alibi assolutamente domenica ore 15 ultimo appuntamento del 2015 per il Teramo sul campo della capolista Spal l'attaccante Lenoci si candida in una maglia da titolare dopo il gol partita con la Pistoiese tra i primi 11 ci sarà anche il difensore Stefano Scipioni che parla delle due panchine consecutive prima di ritrovare il posto da titolare sabato scorso il servizio dietro di me è scattato qualcosa rabbia più che altro ma non nei confronti del ministere di qualcuno rabbia nei miei confronti perché se il ministere ha deciso di mettermi in panchine è perché vedeva che in quel momento non ero pronto e sinceramente mi ha fatto pure bene perché sono abbastanza soddisfatto della prestazione di domenica soprattutto per la vittoria quindi diciamo che alla fine ha avuto ragione il ministere che sta panchina mi ha fatto bene giocando sempre avendo sempre il posto assicurato si perde di vista tra virgolette il lavoro che si deve fare quindi come ti posso dire gli stimoli come ti chiedono l'umiltà viene a mancare poi stando in panchina come ha detto Andrea non essendo abituato a stare in panchina diciamo sinceramente ho rosicato tantissimo ho rosicato e quindi mi ha fatto anche bene perché pure il ministere in battuta mi ha detto allora ti ho fatto bene la panchina e quindi ha avuto ragione lui e alla fine è andata bene così domenica diciamo che sicuramente gli stimoli non mancheranno perché come dici tu affrontiamo la prima in classifica ci teniamo a fare bene a fare bella figura e a cercare di portare punti pure in trasferta che in questo momento è il problema principale che ci affligge poi poi fondandosi al 2 maggio poi c'è molta rabbia però vediamo come ci affrontavano noi da prima in classifica e quindi sappiamo benissimo che dovremmo dare qualcosa in più per cercare di portare i punti mi abbiamo regalato un sogno a molte persone poi questo sogno è stato esvanito però alla fine il bilancio è abbastanza positivo però molto amareggiato sinceramente ultimo appuntamento dell'anno anche per l'Aquila domani alle 17.30 trasferta al Porta Elisa di Lucca il tecnico Perrone deve fronteggiare la squalifica di San Domenico potrebbe affidarsi al 4-4-2 con Perna e De Sousa in attacco e Ceccarelli sulla fascia il servizio di Gianmarco Menga ultima partita del 2015 per l'Aquila di scena a Lucca nel penultimo turno di andata del girone B di Lega Pro il rosso blu di Carlo Perrone reduci da tre vittorie di fila nelle ultime tre gare in casa cercheranno di invertire la rotta lontano dal fattori dove hanno raccolto solo un punto nelle ultime tre uscite l'occasione per chiudere con il botto in 2015 in crescendo è di quelle da non fallire soprattutto perché il match contro la Lucchese sarà un vero e proprio scontro diretto in ottica salvezza sul fronte formazione dopo l'ipotesi 3-5-2 nelle ultime ore sono salite le quotazioni di un passaggio a 4-4-2 così da impiegare Tommaso Ceccarelli da esterno d'attacco e allo stesso tempo rimediare all'assenza forzata di Salvatore Sandomenico causa squalifica il centrocampo sarà completato da Manuel Mancini da De Francesco e da Triarico sull'out di sinistra in attacco dovrebbero partire di nuovo entrambi dall'inizio sia Raffaele Perna che il capitano Claudio De Sousa appuntamento alle ore 17.30 allo stadio Porta Elisa di Lucca il TG6 finisce qui il prossimo appuntamento con l'informazione nell'edizione delle 23 grazie per essere stati con noi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti